Questo audiofarmaco è prodotto in due lingue. Iniziamo ora con la versione in italiano. Seguirà quella in lingua inglese. Questo è un potente audiofarmaco, rivolto alla prevenzione e alla cura della tanatofobia, ed è realizzato in forma sentenziale. Tale forma si avvale di un modello sintattico a tre stadi, brano, verità, sentenza. L'ascoltatore, che è il paziente, viene sottoposto a ripetizioni frequenti di una serie di tracce composte da ben tre movimenti. Il primo movimento è un breve brano di ambientazione. Il secondo è l'enunciazione di una qualunque ovvietà popolare, detta verità, allo scopo di ottenere la massima fiducia dal paziente. Infine, il terzo ed ultimo movimento, chiamato sentenza, rappresenta il vero principio attivo dell'audiofarmaco. Buon ascolto e auguri di pronta guarigione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'acqua è bagnata e toglie l'arsura E la tua di partita potrebbe tramutarsi in un'esperienza entusiasmante E la tua di partita potrebbe tramutarsi in un'esperienza entusiasmante L'amore non è nulla senza il rispetto Ma il decesso è un processo interessante Il metallo è molto resiliente Ma assai meno inclusivo E non vi sarà festa più a Greste della tua tumulazione La tua di partita potrebbe tramutarsi in un'esperienza entusiasmante E la tua di partita potrebbe tramutarsi in un'esperienza entusiasmante E la tua di partita potrebbe tramutarsi in un'esperienza entusiasmante E la tua di partita potrebbe tramutarsi in un'esperienza entusiasmante E la tua di partita potrebbe tramutarsi in un'esperienza entusiasmante E la tua di partita potrebbe tramutarsi in un'esperienza entusiasmante E la tua di partita potrebbe tramutarsi in un'esperienza entusiasmante Quindi, al di là del tempo e dello spazio conosciuto, è possibile che esista un mondo nuovo e fantastico. I nuvoloni neri portano tempesta. Tuttavia, esimiti dal temere la paura. Tuttavia, esimiti dal temere la paura. Girate in realtà in Italia, aveva una funzione di smentita rispetto a un discorso di terre vergini. Questo film ci dice che non ci sono più terre vergini. Nel momento stesso in cui l'immagine di Edwish Fene, che entrando nel cinema, con il suo primo ruolo da protagonista, perde in un certo senso la verginità. Il materiale fonoassorbente difende l'udito. Le norme delle nostre pompe rispettano le normative europee. Le norme delle nostre pompe rispettano le normative europee. Il calore scalda perché è caldo. Pertanto, vivere non è bene. Le norme delle nostre pompe rispettano le normative europee. L'uomo non nasce dalla pietra. Ma tu, ora, smettila di frignare. Il tubo catodico rappresenta una tecnologia superata. Falla finita con la tanatofobia. Siamo ormai giunti al termine della sessione di terapia. E' consigliabile reiterare l'ascolto di questo supporto diverse volte al giorno. Il pensiero si vede dalla sera alla mattina, mentre dormi. Sempre. La produzione non si ritiene in alcun modo responsabile nei confronti di terze parti. Buonasera. This is a powerful audio pharmaceutical aimed at the treatment of thanatophobia, produced in sentential form. This form makes use of a three-stage syntactic model, song, truth, and sentence. The listener is the patient. He is subjected to frequent repetitions of a series of tracks made up of no less than three movements. The first movement is a short setting song. The second movement is the statement of any popular obviousness in order to obtain the maximum confidence from the patient. Finally, the third and last movement called sentence represents the real active principle of the audio pharmaceutical. Happy listening. And best wishes for a speedy recovery. And best wishes for a speedy recovery. The water is wet. And soothes the thirst and the experience of your death could be exciting. And soothes the thirst and the time of 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 the time Grazie per la visione 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 So, beyond known time and space, it is possible that there is a new and fantastic world Black clouds bring storm However, you refrain from fearing fear Grazie per la visione Grazie per la visione Nel momento stesso in cui l'immagine di Edwin Spenek Sound-absorbing material defends hearing The standards of our pumps comply with European standards Grazie per la visione Grazie per la visione Heat warms because it is hot Therefore, living is not good Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione But you, now, stop whining Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione We have now come to the end of the therapy session It is advisable to repeat listening to this medium several times a day Thought can be seen from evening to morning While you sleep While you sleep The production is not responsible in any way towards third parties Good evening Good evening Good evening Good evening Good evening Mmm Good evening Grazie a tutti.